Dunque, io mi chiamo Giancarlo Luzzioli, vengo dal primo lago d'Italia, il lago d'Orta, più importante perché è stato la base del primo regno d'Italia intorno all'anno 1000, quindi che ne dicono tutti gli altri, veniamo da lì. Poi ho 75 anni e il resto, boh, siamo qui. Sì, siamo venuti a fare un giretto tranquilli, no, forse anche per economia e quindi abbiamo approfittato dell'occasione, abbiamo visto un pochino questo paese che per ora è un po' strano, non ancora ben definito né europeo né russo, però rimane lì la metà strada e abbiamo avuto l'occasione e l'opportunità di risistemare un po' la nostra dentatura. Abbiamo fatto una cosa tranquilla, è vero abbiamo fatto uno, due, tre visite qui, ma ognuna intervallata a seconda della necessità di ognuno di noi, ma alla fine penso che il risultato sia ottimo. Vi faccio un sorrisino, cosa che non sono abituato a fare, però ora lo posso fare. Quindi se avete veramente, anche solo per curiosità, solo una pulizia, così mentre potete venire qualche giorno in ferie, passate pure dall'SOS e vedrete che vi troverete molto 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 bene. Buona giornata! Buona giornata!